Il Digital Innovation Hub di Confartigenato Imprese Vicenza nasce nel 2017 ed è un centro per la trasformazione digitale connesso col sistema delle PMI e con la rete della ricerca universitaria italiana e internazionale. È uno spazio di contaminazione interna ed esterna grazie al quale sperimentiamo ogni giorno un nuovo approccio volto alla collaborazione e allo sviluppo di progetti e servizi innovativi per tutte le PMI. Abbiamo ottenuto l'accreditamento europeo come Digital Innovation Hub da parte della DG Connect e siamo recentemente entrati in qualità di partner nella rete di i4MS e nella Smooth Platform per la GDPR. Siamo particolarmente impegnati nell'offrire servizi in tema di sicurezza digitale, e-commerce, gestione dati e intelligenza artificiale ma stiamo intensificando i nostri sforzi anche nell'ambito della space economy e della robotica collaborativa. Solo tra il 2017 e il 2018 gli attacchi informatici sono aumentati del 40% e gran parte delle aziende colpite sono PMI. Il nostro compito è quello di conferire maggior consapevolezza alle aziende sull'importanza del proteggere il proprio sistema informatico. Abbiamo creato un servizio rivolto alle PMI che consiste, dopo una fase di analisi tecnica dell'impresa, nel guidare l'azienda ad attuare dei cambiamenti volti a mettere in sicurezza la propria infrastruttura. In particolare i suggerimenti coinvolgono anche la gestione dei dati aziendali seguendo la normativa GDPR. Attraverso il nostro team e-commerce, Compartigianato Imprese Vicenza risponde ormai da diversi anni alle necessità delle PMI di sviluppare una presenza sul web. Accompagniamo l'impresa in un percorso di vendita online che, a seconda degli obiettivi, può avvenire attraverso i più importanti marketplace internazionali con cui collaboriamo da tempo, o tramite la creazione di un e-commerce proprietario, attività che supportiamo con un piano di promozione digitale più ampio e creato su misura per l'azienda.